oramai ragazzi è praticamente ufficioso che sarà leo bonucci uno dei probabilmente saranno due rinforzi di gennaio per quanto riguarda la difesa di questa roma completamente in costruzione ancora in corsa naturalmente sia in campionato per entrare in zona champions che per l'europa league attesa dallo spareggio di febbraio contro il feia not ma anche dalle sfide di coppa italia con cremonese il 3 gennaio e poi eventualmente il 9 febbraio ci sarà il derby scusate il 9 gennaio ci sarà il derby con la lazio leo bonucci sarà un rinforzo l'enturacia del giocatore era oggi a roma e nelle prossime ore forse già domani tra l'altro non ci sono particolari difficoltà di accordo diventerà un giocatore della roma pare che sia stato decisivo in questa trattativa il ruolo di foto salvatore foto il vice di murigno che è stato compagno di squadra a suo tempo molto tempo fa di bonucci nel treviso se mi ricordo bene e parte la nostra tifoseria è abbastanza sul piede di guerra direi abbastanza comprensibilmente in un mondo molto cambiato perché come ho già detto oggi insomma il caccio è qualcosa di molto diverso rispetto anni fa però il bonucci è un po quello che noi abbiamo sempre combattuto ed è un simbolo comunque di una certa società che tra le altre cose ironia della sorte andremo ad affrontare proprio tra pochi giorni la juventus quindi sinceramente è un regalo di natale che al momento è un po indigesto ecco non saluto l'arrivo di bonucci con grande entusiasmo non solo per questi motivi ma anche per motivi più pragmatici perché comunque un giocatore di una certa età a 35 36 anni che diciamo che capisco capisco l'emergenza di una squadra che ha una difesa che ha tantissimi problemi e che va a perdere adesso a gennaio anche il livoriano undicà come tante volte ho segnalato per la coppa d'africa e non è un dettaglio questo per cui servono subito giocatori pronti giocatori che conoscono il nostro campionato che possano anche all'occorrenza tappare dei buchi bonucci può giocare nella difesa a tre sulla quale murigno punta io sinceramente non mi esprimo e lascio a voi che mi seguite commenti ed analisi della figura di bonucci sui social ho visto tantissime critiche non so forse per vincere che è quello che manca nella nostra storia bisogna tatturarsi un po il naso e cercare di andare a prendere dei profili anche un po indigesti di giocatori che portano comunque una mentalità importante però ho anche delle perplessità sulle condizioni fisiche atletiche di questo giocatore che a berlino è andato male ecco quindi anche nell'ultimo anno la juventus ha avuto problemi non vorrei che ci fossimo un pochettino che stessimo andando ad inciampare in una situazione analoga a quella di giocatori che sono arrivati con grandi aspettative ma che poi avranno una condizione fisica e atletica molto precaria per cui in questi io in questo momento non mi sento di prendere una posizione perché lui tecnicamente non accetto un fenomeno fisicamente un giocatore molto forte fisicamente un giocatore forte esperto di personalità un uomo spogliatoio immagino che può portare la sua esperienza però onestamente non mi sento di prendere una posizione voglio vederlo sul campo sul campo e capire in quali condizioni è però se fosse in condizioni non buone rimarrei un po perplesso perché insomma ma aspettavo un altro profilo ecco si parla anche molto in quest'ora di cialobà del celsi ma anche di bonucci già l'avevo detto diverse volte si parlava da tempo vedremo quali saranno quali saranno gli altri rinforzi e vedremo poi soprattutto a gennaio cosa deciderà di fare anche spinazzola perché se spinazzola dovesse partire come sembra anche lì bisognerebbe prendere adeguati provvedimenti perché non è zaleschi giocatore che può fare in modo adeguato il ruolo di spinazzola ancora buon natale a tutti e alla prossima